Abbiamo lasciato i nostri affetti e le abitudini quotidiane, dirigendoci oltre i bassini d'Europa. L'abbiamo fatto con la stessa naturalezza con cui ci spostiamo tra le stanze delle nostre case o i quartieri della nostra città. Ci ha spinti l'attrazione per gli orizzonti larghi e la necessità di conoscere. Superare la frontiera è stato semplice, una formalità. Poi, laggiù, appena vuole di un passo, abbiamo incontrato un'umanità in viaggio, incagliata a un fondo valle. Donne e uomini a cui il diritto a muoversi viene arbitrariamente negato Stanno ai piedi di un muro che muta la sua solidità a seconda di dove arrivi. È stata un'occasione per toccare con mano e vedere quello di cui si parla in continuazione. Sentirlo al telegiornale e viverlo in prima persona è un'altra cosa. Questa voglia di mettermi in gioco è partita dal mio primo treno della memoria. E da lì nacque proprio la curiosità. La lampadina più grande si è accesa quando siamo andati a vedere questa mostra di Pio Bicchi nella quale raccontava le storie delle persone che aveva aiutato in mare a Lampedusa e faceva vedere questi disegni e diciamo che lì ho capito veramente che da qualche parte del mondo ci sarebbe stato magari bisogno del mio aiuto. Povera stupida. La realtà secondo me che poi tu vai a vedere è diversa da quella che ti raccontano e quindi secondo me era molto importante anche essere informati su questo. C'è anche una questione personale, un'esigenza se vogliamo umana di ascoltare le storie e le voci delle persone coinvolte in questi processi. Tu l'hai mai visto il volto dell'odio? Io non l'avevo mai visto fino a qualche anno fa. Poi man mano ho cominciato a vederlo a scuola, in tv, per strada, al bar. Mi ha dato fastidio vedere quell'odio e non essermi mai accorto che probabilmente c'era già. E anche questa è stata la motivazione che mi ha spinto ad andare a Biac. Ho scelto di viaggiare per conoscere e conoscere per non odiare. A livello pratico noi abbiamo affiancato le ragazze del servizio civile di IPSIA nella gestione del social caffè. Questo punto di ritrovo, di socializzazione informale che è stato allestito all'interno del campo di birra, di Biac. Si entrava al campo intorno alle 10. Ti mettevano queste panche con i tavolini. Lì si mettevano pennarelli, acquarelli, tempere, giochi da tavolo. Distribuivamo il tè. Avevamo portato un sacco di materiale, reti da pallavolo, palloni, carte, qualsiasi cosa che potesse fargli passare un minimo di tempo in modo diverso. Stavamo entrando in casa loro, in qualche modo, in un luogo che hanno fatto diventare pian piano casa. Una casa transitoria, quello che vogliamo, però pur sempre casa. Mi sembrava quasi di invadere un territorio non mio, come quando entri con riverenza in casa di qualcuno. Poi col tempo sono stati loro più che altro a farmi sentire a mio agio, a darmi modo di ambientarmi. Io già di mio non sono una molto socievole. Venivano loro a parlarti. A volte c'è stato non dovevi fare niente di sedere. Trovavi due persone di fianco e iniziavi a parlare con quelle due persone. Devo dire che ho scoperto che parlare con le persone è stato stimolante perché mi veniva da essere curiosa. Io sentivo queste storie e chiedevo cosa che io faccio mai. Se qualcuno mi racconta una storia, ok, bene. Non dovrebbe essere normale ognuno raccontarsi la propria vita? O raccontarsi la propria giornata? Siamo riusciti a lavorare. Con la Croce Rossa abbiamo creato dei pacchetti sanitari. Siamo andati a consegnare questi pacchetti nel campo di Borici, che è un campo per le famiglie che si trova poco distante dal centro, comunque molto vicino alla città. Mi aspettavo di incontrare bambini distrutti, genitori in preda al panico senza sapere più cosa fare, come tornare, come andare via. E invece ho incontrato un sacco di ragazzi, di bambini con il sorriso, pieni di speranza, consapevoli del loro stato, ma con ancora la coscienza di essere umani. All'inizio pensavo che comunque rassegnazione e grinta fossero delle parole completamente opposte, perché se hai rassegnazione come puoi pensare, ci riprovo. Eppure lì c'è. Sono magari rassegnati, però hanno comunque il bisogno, anche, oltre che la voglia, di sorpassare la frontiera croata. Mi sono immaginata quasi la mia famiglia in questa situazione. Ho visto bambini di più o meno all'età del mio fratello. Il mio fratello mangia quello che vuole quando vuole mangiare, va in piscina quando vuole andare in piscina, prende la metro, va a scuola, cioè fa quello che vuole alla fine. E io non... anche persone che magari si separano completamente dalla famiglia per fare questo. Io non avrei questa forza e mi sono pensato molto a questo. L'esperienza al campo di Vucek è stata davvero sconcertante. È un campo in cui le condizioni sono davvero al limite, o forse hanno già travalicato e superato il limite. Noi abbiamo aiutato, supportato la Croce Rossa nella distribuzione del primo pasto della giornata, uno di due, e nella distribuzione di materiale con cui loro potessero provvedere alla cura igienica. Le persone in quel campo vivono in condizioni che non mi sarei assolutamente immaginato. Dormono stesi su questi teloni di plastica a contatto diretto col terreno, una sporcizia allucinante, l'impossibilità di riempire il proprio tempo se non nell'attesa di qualche cosa. Un posto del genere non lo vedi, mai. Non lo vedi in tv, non lo vedi online, non lo vedi mai. Lì sopra non c'era vita, era stato studiato appositamente per annichilire quelle persone, per cercare di farle demordere, per cercare di abbatterle in qualche modo. Ormai si cerca di fare questo, di creare un nemico percepito da ingabbiare in spazi delimitati, di creare dei posti lontani, ma non troppo lontani da noi, dai nostri occhi, per cercare di farci sentire sempre la presenza costante di questo nemico percepito, qualcosa da combattere, un capro espiatorio in qualche modo. Quindi anche l'emarginazione sociale è un elemento estremamente importante nella comprensione di questi fenomeni. Perché una cosa è averli in centro, vedere la vita che fanno, o comunque starci un minimo a contatto. Una cosa è avere un centro immaginario, sulle montagne, non si sa dove, non si sa come, che le persone non vedono, e dire lì abitano tutti coloro che sono la causa dei vostri problemi. Sento io le voci o che cosa? Eh, se no, le sento anch'io. Cosa? Voci. Ma non c'è un cacchio intorno. Quindi ho c'ho gente dentro. Siamo andati a vedere diversi sentieri che portano in questo bosco. Alla fine di questo bosco c'è la frontiera croata, dove spesso si trovano la polizia e vengono respinti. Buo, era una sensazione più che altro di angoscia, cioè camminando per questo sentiero era abbastanza silenzioso. Vedevi queste scarpe, calzini, dentifricio. C'erano bottiglie d'acqua, sacchetti, giacche, cartine di brioche, guanti, vestiti bruciati. Era triste perché non sai se ce l'hanno fatta, se non ce l'hanno fatta. La cosa che mi ha colpito è stata che questo bosco, questo sentiero, era proprio sulla strada. E quindi mi sono chiesta, ma perché non si fanno domande? Camminare è anche non fermare la macchina davanti al sentiero, ma camminare un po' vicino alla strada. Quindi vedere anche lungo la strada, non proprio nel posto, i rifiuti, le scarpe, puoi arrivare in questo sentiero che è un sentiero di montagna alla fine. Più entri, più ti senti soffocare. E quello non era più un percorso bello, un percorso di montagna, era semplicemente una strada che qualcuno percorre per sopravvivere. Sembravo in un'altra dimensione. È come se veramente l'aria mi opprimesse. Avevo paura, rabbia. Cioè, rabbia di guardare e dire, ok. Però è anche la voglia di dire, ho visto queste cose, le devo raccontare. Ci sono stata. Anche la gente che magari non mi vuole sentire, glielo dico lo stesso. Non mi era mai capitato di vedere una presenza così forte di frontiere, però mi ha stupito molto il fatto di quanta fatica fanno loro a passare questa benedetta frontiera. Io ho dovuto dare il mio documento, cioè poi gli abbiamo detto ciao ed era finita lì. Loro devono rischiare la loro vita per passare. Ci dà veramente la forza e dici, ma io qual è il mio sogno? Dove voglio arrivare? Cioè, posso farcela? O avrò la stessa determinazione? Perché loro comunque ne va della loro sopravvivenza. Noi essendo rumeni, spesso e volentieri andiamo lì in macchina. Quando ci avvicinavamo alla frontiera, che vedevamo soprattutto i cani randagi, io e mio fratello facevamo subito finta di dormire perché avevamo paura della polizia di frontiera. Aver scoperto che una frontiera può essere letteralmente un impedimento e non solo una paura è stato difficile. E' stato difficile perché appunto, essendo una persona che è cresciuta in una famiglia migrante, mettermi nell'ottica di una persona che non può fare le stesse cose che faccio io tutti i giorni, nonostante sia una migrante, mi pesa. Are you going to the game? Good luck! Good luck! I neri che comprano nei negozi di lusso li vogliamo, gli arabi con le borse di Witton le vogliamo, noi non vogliamo i neri che vanno nelle campagne a raccogliere i pomodori che poi mangiamo, non vogliamo gli arabi che vendono gli alcolici sotto casa, non vogliamo tutto ciò che è povero insomma. Le frontiere d'altronde sono frontiere solamente per chi non se le può permettere. La torre è un'altra inizia e un'altra inizia è un'altra inizia. No, no, no Questi viaggi credo che aiutino ad imparare, a relazionarsi in gruppo, a vedere, a toccare con mano realtà diverse e anche al campo quando eravamo al birra. Un minimo sorriso con una semplice tazza di tè, con una partita di pallavolo, erano felici, ti ringraziavano dieci volte e quel sorriso era più di qualsiasi altra cosa. Sono andata a distribuire lo shampoo, il bagno schiuma, se non fossi andata io sarebbe andato qualcun altro, però più la gente ci va, più siamo meglio, nel senso ogni aiuto nel più piccolo, che sia ascoltare, che sia fare i pacchetti, che sia distribuire il cibo, cioè secondo me è essenziale tutto, ogni piccola cosa. La cosa che ho ritrovato lì è stato che tu fai volontariato, vai lì, non per loro, perché a loro non gliene frega niente se tu ci sei o no e non sei migliore di loro. Vai lì per te stessa e cresci insieme, cioè dai del tuo tempo ma ricevi tanto. È tutto uno scambio di interessi che alla fine favorisce sia te, chi stai cercando di aiutare, ma che alla fine anche tu hai bisogno d'aiuto. Il nostro intervento è una goccia, non è risolutivo nella maniera più assoluta, quindi l'impegno deve essere ancora più forte, bisogna creare sinergie per diffondere tutto ciò che abbiamo visto e testimoniarlo, affinché non rimanga nel dimenticatoio, affinché le cose vere, reali, si sappiano e non vadano avanti solamente le fake news, la disinformazione dilagante, solamente i titoli altisonanti detti da un politico un giorno e smentiti il giorno dopo. Nessuno dovrebbe essere ignavo di questa situazione, che alla fine è anche attualità, non è nella mia quotidianità, però c'è. E allora perché non informarsi? Il futuro forse appartiene a chi ha una tale voglia di riscatto e di conquista di qualche cosa, da essere in grado di abbandonare le proprie comodità o tutto il contesto in cui è cresciuto per mettersi in gioco completamente. Da quando sono tornata sto soprattutto attenta alle parole che si usano, a come vengono usate e osservo molto di più gli sguardi della gente. Faccio molta più attenzione alle cose che si dicono e sarei molto più in grado di controbattere, non di controbattere, però comunque di far valere la mia opinione per quello che ho visto, per quello che ho sentito. Ho avuto l'opportunità di vedere veramente come stanno le cose, senza paraocchi, senza nessuno che mi dicesse niente, ho dovuto guardarmele io, ascoltarmele io, farmi le mie opinioni. E secondo me è stata la cosa più importante perché è stata proprio una crescita che ho dovuto affrontare io e non c'era il grande che mi diceva, allora mo ti spiego cosa è successo. Ero partita appunto senza aspettative, senza niente, senza pretese, ad un certo punto avevo anche abbandonato l'idea di capire qualcosa, infatti sono tornata con ancora più domande e non ci ho capito niente. Però sono tornata molto arrabbiata, sono arrabbiata con le persone che vietano ad altre persone come loro di muoversi, ma anche semplicemente banalmente andare al supermercato, si va in due, si torna in due e poi altre due escono. Sono arrabbiata perché sono un'immigrata anch'io, come lo sono i miei genitori, solo che a noi è stato promesso di farlo e sono arrabbiata perché non so se ce la faranno, non so se facendo il game ci arriveranno dove vogliono andare. E sono arrabbiata perché sono ragazzi come me che hanno dei sogni, sono arrabbiata perché ci sono ragazzi che hanno studiato anni, tipo ingegneria, legge, e non possono fare niente per professare quello che hanno studiato, quello che gli piace. Perché se studi una cosa ti impegni talmente tanto e non ti ha dato la possibilità di farlo, ti viene la rabbia e sono arrabbiati loro e sono arrabbiata anch'io. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.